Come? Don Camillo? Siete voi? Ma voi dovevate arrivare solo col treno di stasera? Ma chi l'ha detto? Il sindaco! O se il sindaco mi ha scritto di prendere il primo treno, che sarebbe venuto a ricerciare? Ma che dite? Ha fatto dire a tutto il paese che sareste arrivato con l'ultimo treno! Vi do un'ombrella, aspettate! Seppone non voleva che il ritorno di Don Camillo si trasformasse in un trionfo della reazione e aveva preso le sue misure. Tenete, reverendo. Grazie, signor Presidente. E per essere sicuro che non ci fosse neanche un cane alla stazione, nemmeno per sbaglio, avevo organizzato alla Casa del Popolo un incontro di boxe tra il campione federale Gorlini e il popolare campione della sezione locale Bagotti. Era un po' un incontro tra città e campagna e la cosa interessava. Oh, Smilzo, piove molto? Sì, a Cacinello. Bene, speriamo che continui, eh? Grande combattimento per il titolo di campione della federazione provinciale tra i detentori del titolo! Compagno, compagno Anteo Gorlini E lo sfidante, compagno Mirko Bagotti Speranza della nostra città, il quale speriamo veder brillare al firmamento del nobile sport! Naturalmente, vi auguriamo sportivamente che vinca il migliore! Mi spacco la testa col martello della forgio, capito? Sono contento che siate di ritorno, devo confessare che non sono riuscito a capire i vostri parrocchiani. Sono un po' difficili, trovate, ma sono agnellini! Il sindaco mi sembra un lupo invece, mi ha aspettato per dirvi che ho tentato in vano di fargli mantenere le promesse circa la torre campanaria. Alla fine gli ho spedito una lettera raccomandata, pregandolo di venire di persona a constatarne i dati. E mi ha risposto? Sì, guardate. Il signor sindaco riceve sino alle sette. Se si desidera di fargli vedere la crepa, si prega di portare la torre in comune. Regoleremo anche questa. È assai grave, la pioggia e il gelo hanno ingrandito la fessura. Venite a vedere. Giltrude sta su per puro miracolo, guardate. Attenso! Se permettete vado ad assistere ad un mech di pox. Forza bagazzi! Forza bagazzi! Forza bagazzi! Forza bagazzi! Forza bagazzi! Forza bagazzi! Andiamo forza bagazzi! Forza bagazzi! Forza bagazzi! Forza bagazzi! Grazie a tutti 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 Vi do appuntamento domenica alla Santa Messa Spero che tutti ci verranno Anche quelli che hanno sulla coscienza la rovina della casa del Signore Nessuno aveva usato Fratelli Grazie a tutti 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 Quelli che non voglio dar niente Che lo facciano di fronte a tutti Non è abbastanza? O per me lo è, ma per me lo è, ma per la tranquillità della vostra coscienza non so mica Grazie a tutti Premi fra tutti, teniamo che torni a posto quella campana che ha salutato ieri l'alba della liberazione e che saluterà domani l'alba radiosa della rivoluzione proletaria. Grazie, signor sindaco. Ma per il giorno della rivoluzione farei bene a curare il dietrofong e il passo di corsa. Grazie. 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 Grazie.